Oggi andiamo a vedere l'ultima parte della lezione intitolata Chi sono i condannati? Ebbene oggi ho un vasto seguito e questo tizio ad Harvard che ne ha parlato di recente nega che troveremo qualcosa al di fuori della terra che voi chiameresti vita, come noi intendiamo la vita ma le dirò, se solo mi ascoltasse che non troverebbe nessun posto al di fuori della sua stessa immaginazione e verrà il giorno in cui camminerà su questa terra come ho fatto io e in quel momento la fermerà dentro di lui e tutto si arresterà Non un uomo poteva muoversi, non un uccello poteva volare anche se era in volo mentre l'ho fermato non una foglia poteva continuare a cadere anche se stava cadendo quando l'ho fermato e l'ho guardata era tutto morto intendo proprio morto non un'animazione sospesa no, morto, senza respiro perché il respiro non c'era quello era un corpo animato e l'animazione era dentro di me nella mia stessa immaginazione e poi ho rilasciato quell'attività in me e tutto ha continuato a muoversi di nuovo Io qui farei un piccolo appunto perché un giorno ho chiesto come ci potremmo definire oltre i canali e mi è arrivato questa risposta qualcosa naturalmente che è alla portata del nostro linguaggio di quello che c'è dentro di noi come più vicino a quello che intendono dire ok più vicino a quello che è nel nostro bagaglio come vocabolario e quindi proiettori noi proiettiamo ciò che abbiamo dentro fuori avete presente i proiettori quelli beh, lo sapete di chi sto parlando proprio così noi proiettiamo come dicevo ciò che abbiamo dentro di noi verso fuori un grande drama che sentirete recitare ma non capirete quando il grande processo si svolgerà questo mese per duemila anni hanno messo in scena questo drama in cui si chiede non sai che ho il potere di liberarti il potere di crocifiggerti ed è lì rispose tu non hai potere su di me se non ti è stato dato dall'alto perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha il peccato maggiore Giovanni 19,10 ora, cosa rappresenta l'alto? appena finito di dirgli tu vieni dal basso io vengo dall'alto tu sei di questo mondo io non sono di questo mondo quindi da quella grande presenza interiore e animato e quindi sta recitando un drama va bene, nessuno può prendermi e arrestarmi se non fosse dentro di me l'ho permesso è qualcosa nel profondo di me stesso l'ha permesso è a luogo se lo sai e credi in lui sei libero quindi conosci la verità e poi la verità ti renderà libero io qui farei un altro piccolo appunto per dirvi una cosa noi quello che dovremmo fare che dobbiamo fare tutti è realizzare che siamo completi perfetti ora ma è un processo che dobbiamo farlo noi realizzare noi credere che sia così iniziare a ricordarci che sia così non dubitare ecco perché mi sono permessa di condividere con voi questa grande conoscenza per vedere un altro punto di vista non che io sia come dire una fan della chiesa però non nego le scritture diciamo non tutto perché non bisogna buttare tutto non bisogna buttare come si sol dire l'acqua con il bambino dentro perché se c'è del buono c'è anche qualcosa di contrasto ok non esiste il male il male lo facciamo noi il male noi crediamo quando noi crediamo che ci sia il male in quel momento lo creiamo ok quindi non sto dicendo questo ma quando c'è qualcosa di buono che noi consideriamo buono ci deve essere anche qualcosa di contrasto e il contrasto ci aiuta a vedere se non ci fosse la camera buia per esempio non ci renderemo conto che la luce la illumina quindi la luce cosa fa? la luce quando si accende e il buio sparisce di botto tutto è amore e tu sei quello tu sei puro amore è tutto uno tutto assolutamente tutto tutto quello che vedi è uno e ognuno di queste parti dell'uno sta facendo il suo viaggio e noi non dovremmo giudicare assolutamente nessuno perché è come prendere un bambino dall'asilo e pretendere che questo bambino sappia fare che ne so io le equazioni del terzo grado o altre cose sappia fare certi calcoli matematici che si fanno in primo anno all'università ok anche se ha 50 anni o 70 anni non vuol dire nulla perché a livello spirituale è arrivato su come dire la sua intelligenza spirituale è lì la sua saggezza è lì il suo livello è lì quindi non bisogna giudicare nessuno poi non bisogna giudicare al di là di questo non dovremmo giudicare nessuno certo non possiamo stare davanti a uno che non capisce niente tira fuori una pistola e te la punta ecco e non dovremmo neanche reagire perché reagire è l'ego che di impulso reagisce piuttosto di rispondere ma questo è un altro discorso quello che sto dicendo è che dobbiamo imparare a sapere chi siamo dobbiamo sapere chi siamo e questo sapere questa conoscenza che ci renderà liberi sapendo che niente assolutamente niente di questo mondo delle forme ti può danneggiare nella tua vera essenza cioè tu sei spirito sei uno sei questa parte di ogni cosa nessuno può danneggiare il tuo spirito nessuno può vedere te stesso la tua vera essenza non può essere minacciata o distrutta la tua realtà non può essere minacciata in nessun modo il nostro corpo sì ma la nostra vera identità non può essere minacciata non può essere danneggiata ok assolutamente quindi quando tu capisci questa verità questa verità ti renderà libero allora chi è ora il condannato? Dio ha mandato il figlio nel mondo non per condannare il mondo ma perché il mondo fosse salvato per mezzo di lui chi crede in lui non è condannato chi non crede in lui è già condannato perché non crede nel nome dell'unigenito figlio di Dio il nome è Gesù e il nome significa natura la natura di questo figlio di Dio non è creduta perché Gesù è il padre il mondo non lo sa non possono crederci parlano di Gesù Gesù e Jehovah il grande io sono questo è Gesù se lo scrivesse in francese potresti capire je suis scrivi je suis e ottieni Gesù lascia cadere la i je suis e io sono in francese e quando lo scrivi nella forma latina otterrai io sono quindi questo è è Dio andate e dite loro che io vi ho mandato chi sta parlando? il Signore dell'universo allora chi chiese dove è tuo padre? disse se mi conoscessi davvero non lo chiederesti perché non potresti conoscermi davvero nel vero senso di quella parola e non conoscere Dio perché io e lui siamo inseparabili questo sta dicendo loro e così quando mi vedrete vedrete lui quando mi vedete state vedendo il padre Giovanni 12 45 14 8 quindi non chiedermi di mostrarvi il padre perché io e il padre siamo uno ecco cosa che sta dicendo nel profondo dell'anima sono uno lui e il padre quindi questo non è il nome del figlio il nome in questo caso è la natura del figlio di Dio che è una vitalità interiore un'attività della propria meravigliosa immaginazione umana quindi la mia sopplica a te se sei stato addestrato come sono stato addestrato io prima dovevo morire a tutte queste convinzioni e quindi morire completamente allora non sapevo come spiegarlo a mia madre non volevo offrirla non volevo ferire mio padre sono stati addestrati come sono stato educato io e poi confrontarti con loro che ami teneramente e non puoi entrare nella conversazione che prima sarebbe stata una parte normale di una discussione serale perché hai dato per scontato la storicità della Bibbia e ora non puoi darla affatto è un mistero non è affatto storia secolare è storia divina tutto si svolge nell'anima dell'uomo e ciascuno è destinato a recitare tutte le cose rivendicate da Cristo Gesù nascere sopranaturalmente come nacque sopranaturalmente ed essere uno che scopre la propria paternità uno con Dio Padre uno che viene innalzato nello stesso modo in cui ha detto quando mi innalzerei allora saprei che io sono lui e tutto ciò che è registrato su di lui traspare effettivamente nell'anima di te stesso e l'intera cosa diventa quindi qualcosa di molto personale e sai che è vero per ogni essere del mondo quando comincia a dispiegarsi la fine è in vista e allora te ne stai andando da questa epoca in quella era già preparata per coloro che vengono sollevati da questa epoca ma tutto sarà sollevato da questa età quando comincia a dispiegarsi la fine è in vista e allora te ne stai andando da questa epoca in quell'era già presente per coloro che vengono sollevati da quest'epoca ma tutti saranno sollevati da quest'epoca perciò prendi la storia niente più importante di questo che la storia di Cristo Gesù debba essere ascoltata e si debba rispondere nel libro di Giovanni si sottolinea questa necessità di ascoltare bisogna sentirla quindi andate e predicate Gesù Cristo non come storia secolare vai e cerca il meglio delle tue capacità di svelare a chiunque ti ascolterà il mistero di quella storia perché tutti la vivranno e così nascerai in modo sopranaturale non attraverso il grembo di donna questo è un parto naturale scoprirai di non avere padre per questa nascita nessuna madre sei autogenerato e poi sei un padre e subito dopo arriva la prova tangibile della tua paternità perché apparo un figlio ora sai esattamente chi è e lui ti chiama padre tutte le generazioni dell'umanità più tutti i loro successi le loro esperienze tutto fuso in un'unica giovinezza e quella giovinezza è l'eternità eppure umano il suo nome è Davide e ti chiama padre allora sai solo allora non prima chi sei veramente tutti si incontreranno in questa eternità tutti fusi in un solo corpo senza perdita di identità e quel corpo è il corpo più radioso che tu possa mai concepire ed è Dio e tu sei lui tutti uno e nessuno verrà perduto in tutta la sua santa montagna di Dio nessuno sarà condannato ma è da Dio non è un Dio di punizione è un Dio di amore infinito e così nessuno andrà perduto e tutti saranno elevati all'ennesimo grado di bellezza di perfezione di maestria di maestà e ogni attributo del mondo che puoi pensare innalzato all'ennesimo grado e questo sei tu stasera mettilo alla prova fallo nelle cose della vita come un lavoro migliore più soldi una casa migliore più sicurezza tutto ciò che vuoi in questo mondo non chiedere a nessuno se è possibile fallo semplicemente portando avanti interiormente la conversazione con te stesso e vedilo accadere nel tuo mondo ma non dimenticare come è successo se porti avanti questa discussione con qualcuno potrebbe dirti beh lo sai sarebbe successo comunque e poi arriva il grande accusatore del mondo il grande dubbio del mondo Satana ma lui non sa nulla perché non sa che tu non sei l'abito che indossi il dubbioso del mondo lo sapete chi è il dubbioso del mondo è la parte della nostra mente che è stata avvellata praticamente l'ego ok quella parte di noi che ci aiuta a salvarci ok quella parte di noi che è stata messa dentro di noi per aiutarci a evolverci ok è un catalizzatore ciò che dice nella legge dell'uno è proprio quello un catalizzatore che aiuta a produrre queste lezioni noi siamo alla scuola della terra non dobbiamo prendere tutto sul serio però ci dobbiamo impegnare a co-creare una realtà migliore e cioè un'esperienza più bella per tutti e come lo facciamo non dubitando della tua vera identità non lasciarti influenzare da fuori vedete non c'è nessuna bestia non c'è nessun male non c'è nessun satano non c'è nessuna cosa cattiva che ti possa mai far vibrare alla vibrazione che tu non vuoi vibrare ora mi spiego dato che lo sapete che tutto vibra e tutto è un'energia che vibra a diversi livelli e questi livelli di vibrazione noi chiamiamo frequenza quindi la frequenza non è altro che un livello di vibrazione quindi siccome noi veniamo scannerizzati praticamente continuamente dall'universo intorno a noi per vedere che cosa chiediamo noi come chiediamo noi parliamo come abbiamo detto attraverso la vibrazione quindi quando tu vibri in quella vibrazione bassa pesante densa quello che attirerai sarà esperienze pesanti dense quindi esperienze di traumi di dolore di drama e così via quindi quando ci si pone tutto questo disastro ok noi cosa facciamo reagiamo e produciamo altro e altra energia negativa perché iniziamo a giudicare è quello che ci fanno spremere praticamente l'energia perché come vi dicevo se ci fosse qualsiasi persona davanti a voi ma nessuno può intervenire con il nostro libero arbitrio siamo noi che lo diamo volontariamente quando pensiamo che qualcosa da fuori qualcosa dal di fuori di noi possa avere potere su di noi quindi nessuno può vibrare al posto nostro siamo noi che introduciamo il dubbio la paura la sicurezza nelle cose esterne insomma siamo noi perché non è che lo facciamo che ci piace farlo perché molti di noi non sono consapevoli inconsapevolmente e attraverso questi programmi che sono codificati nella nostra mente subconscia cosa sono questi programmi o paradigmi non sono altro che pensieri ripetuti continuamente che sono diventati vere e proprie credenze e queste credenze dettano il nostro comportamento e questo comportamento in base al nostro comportamento noi produciamo un risultato ok quindi come vi dicevo non c'è male che vi possa mai far vibrare perché puoi avere chiunque davanti ma quando sai la verità tu stai calmo tranquillo e nessuno può intervenire con il tuo libero arbitrio anche anche le entità orientate negativamente non può fare altro che manipolarti a credere che qualcosa di esterno di qualcosa di terribile ti può accadere ma non ti può accadere nulla solo quando tu vibri e ascolti e ti fai suggestionare da quelle persone allora inizi a vibrare in quelle basse vibrazioni e quindi produci e attiri verso di te quelle energie negative ma se invece tu sai di essere pura energia amore infinito che nessuno ti può toccare assolutamente rimane in questa consapevolezza consapevolezza di essere uno con il tutto rimani in quella in quell'energia dell'amore in quell'energia pura di adesso in questo istante rimani in te e allora capisci che sei tutto con tutto e che tutto quello che vedi sei tu che sta facendo un'altra esperienza non giudicando ma naturalmente come vi dicevo non è da stare davanti queste persone che non sanno chi sono quindi è questo il dubbio il grande dubbio le gozatano insomma questo è quello di cui sta parlando è una parte della mente vellata che non sa di essere uno con tutto pensa che quando sei venuto in questo mondo è iniziato per la prima volta lui non sa chi sei sei venuto da Dio e a Dio ritorni e mentre sei venuto in questo mondo non importava davvero quale fosse la natura dell'indumento che hai scelto non importava davvero perché ovunque tu l'abbia raccolto indipendentemente dalla razza dalla nazione l'hai raccolto solo per scopi educativi per sentire parlare di Gesù Cristo mentre camminavi sulla terra e del vero Cristo Gesù e poi provarlo e poi mentre cammini su questa terra senza nessun preavviso accade un improvviso di spiegarsi dentro di te di una serie di esperienze mistiche e stai lasciando questo mondo per sempre ma rimani dentro ancora un poco per coloro che sono qui per lo stesso scopo educativo ora entriamo nel silenzio e immaginiamo che qualcuno ci parli e ci dica o della propria fortuna che noi desideriamo per loro oppure che sappiano della nostra fortuna e come un amico sia presente per congratularsi con noi cosa direbbe se fosse davvero tuoi amici e sapessero della tua fortuna come lo esprimerebbero bene ora lascia che lo esprimono e ascolta attentamente come se li sentissi veramente sono costretti a incontrarti con quell'essere ed esprimere ciò che interiormente hai sentito dirgli questo lo esprimiamo è perché la cosa è già avvenuta e da amici semplicemente si divertono a congratularsi con te ora andiamo andiamo a vedere delle domande la domanda non è comprensibile ma andiamo a sentire ciò che ci dice Neville sono tutte storie meravigliose spero che continuerai così così ora ha la tecnica perfetta perché ha sentito prima di tutto ci ha dato tre tecniche decise la prima è stata la sensazione quando ha sentito la polizza in mano e sarebbe nessun altro potesse ottenere una polizza nella zona in cui viveva ha ottenuto la polizza di punto in bianco è arrivato senza alcun aumento di alcun sovrapprezzo nonostante fosse un amico tutto si è risolto poi è arrivato il concetto visivo lo usava per vedere il verde dove non c'era verde solo marmo marcio oliva quando vide il verde dal nulla a un perfetto estraneo divenne il mezzo per spostare la piccola staccionata e poi metterla dove l'aveva visto mentalmente quindi aveva il senso del tatto aveva risvegliato il senso visivo e poi con il suo produttore ha preso un uomo che non poteva mai esprimersi con un superlativo poteva solo esprimere la sua gioia dicendo è buono e come lo ha sollevato da quello stato limitato che una cosa è buona è grande fantastica e infine assolutamente sensazionale quindi ha preso un uomo che non poteva andare oltre l'espressione di buono quando approvava qualcosa e ha innalzato la sua capacità di esprimersi più generosamente tutto ascoltandolo dentro di sé quindi ancora una volta ha confermato la definizione di immaginazione di Blake è una sensazione spirituale perché udì distintamente la voce dell'uomo non solo un uomo ma quell'uomo molto precisa che diceva ciò che voleva sentire e l'uomo lo ripete davvero quindi tutte queste cose che ha condiviso con noi sono storie emozionanti voglio ringraziarlo alla piattaforma e spero che continuerà a fornirci altre di queste meravigliose storie e tutti i presenti siete invitati a sperimentare e puoi scrivermi una lettera e datemi il permesso di raccontarla se vuoi che lo sappia ma c'è qualcosa in esso che preferiresti non trasmettere dillo semplicemente che vuoi farmi sapere che ha funzionato ma preferiresti non farti raccontare la cosa non lo dirò te lo prometto lo farò solo con il tuo permesso quindi scrivimi ma prima di tutto sperimenta ora ci sono domande per favore la domanda non è comprensibile ma la risposta di Neville è questo mia cara non c'è niente di più grande in questo mondo bene è una conversazione che si svolge nel profondo dell'anima non puoi andare più in profondità di io sono è il centro dell'universo quindi quando lo senti lo senti da dentro molto spesso per l'individuo che l'ha sentito sembra provenire dall'esterno ma non viene affatto dall'esterno il dramma dell'io sono nel libro di Giovanni il Vangelo di Giovanni è semplicemente una serie di detti di io sono perché è presentato come Dio stesso quindi trovi tutti i gradi detti dell'io sono nel Vangelo di Giovanni quindi grazie sono contento che tu abbia l'abbia sentito come il suo amico lo scrittore lo chiamo suo amico perché tale relazione possono svilupparsi in amicizie molto belle anche se sono mondi socialmente intellettualmente e finanziarmente a parte puoi ancora avere amici con ogni livello in questo mondo non devi averli al tuo livello molto spesso non possono diventare amici sono rivali ma questa potrebbe essere un'ottima amicizia senti la grande voce e pensa che proviene dall'esterno poi la senti una seconda volta e poi una terza e anche il simbolo della presenza era quello che lo spaventava come ci raccontava così chiaramente nel libro dell'Esodo e così quando guardava nascondeva il volto perché aveva paura di Dio e aveva paura di guardare il simbolo di Dio sebbene udisse la voce che proveniva dal profondo della sua anima ora ci sono delle domande per favore altre domande ci spiegheresti dell'amministratore ingiusto e il suo padrone lo loda risposta hai sentito questa domanda prima di tutto è lunga e questo è il tema che trasmetterò prossimamente nel furfante lo troverai nella prossima serie a un furfante intelligente perché questo è il titolo che ho dato all'amministratore ingiusto ma allungi dall'essere un amministratore ingiusto è qualcosa che tu e io siamo invitati a emulare essere ingiusti come lui e invitati e falsificare il registro non devi entrare nel tuo ufficio e falsificare il registro fisico perché mentre lo fai saprai che corre il rischio di essere licenziato e denunciato e lo stai facendo a te stesso se e quando viene scoperto ma falsifichi il registro mentale questo è tutto il pentimento non ci viene detto che questa è una generazione malvagia pertanto a questo livello io sarei gli occhi di un ingiusto amministratore domanda non comprensibile Neville Abdullah Abdullah ha vissuto più di cent'anni e aveva un desiderio ardente rimettere il corpo nella terra dove era nato in Etiopia l'ultima volta che ho incontrato Abdullah è stato circa otto anni fa a New York circa sette anni fa ho incontrato la sua segretaria e mi ha detto che Ab stava progettando di tornare in Etiopia da allora non ho più visto né sentito né Abdullah né la sua segretaria so che è uscito da questa sfera so che quando ora lo vedo indossa la sua forma primordiale che è completamente sotto il controllo del suo potere immaginativo è stato Abdullah che per primo mi ha insegnato a morire come mi disse nel 1933 morirai ma non morirai veramente beh sembravano così tante parole oziose che sarei morto ma non di sicuro e mi disse la grande verità che allora non potevo afferrare perché quando me lo disse io ero un vegetariano rigoroso astemio celibe qualunque cosa l'uomo fa normalmente io la facevo perciò mi disse sai sei così bravo che non sei buono a nulla e poi mi ha detto stai per morire quindi sono andata a Barbados ancora con tutte queste restrizioni come il vegetarianismo e sono tornato da Barbados tre mesi dopo e non avevo più nessuna restrizione su di me e non posso dirti ancora ogni cosa come sia successo sono tornata a bere vino e liquore e a godermi la vita ho provato a fumare ma non mi piaceva e tutte le altre cose che ho provato mi sono piaciute e così quello era il mio hub e mi diceva sempre i fratelli sono venuti la notte scorsa si riferiva sempre alla società divina come ai fratelli li considero davvero nel mondo più meraviglioso il dio padre e la paternità di dio implicherebbe la fratellanza degli uomini e così gli uomini esaltati fatti passare per questa valle di lacrime che si chiama morte e da essa risorti fanno parte della società divina dunque i fratelli e non si riferiva mai a loro in modo diverso i fratelli gli dissero che stavo arrivando ed ero in ritardo e il motivo per cui ero in ritardo era perché l'uomo che mi aveva suggerito di andare lì per ascoltarlo era un uomo di cui non mi fidavo affatto andò alla Fordham University nella speranza di diventare prete e fu bocciato al terzo anno suo padre era un contrabbandiere ai tempi del proibizionismo e morì lasciandogli un patrimonio era figlio unico di 2 milioni di dollari e lui ha perso tutti i 2 milioni nel primo anno a Wall Street quindi non avevo fiducia nella sua capacità di fare qualsiasi cosa così quando mi ha detto di aver incontrato un uomo che dovevo davvero sentire ho rimandato, rimandato e rimandato l'appuntamento e un giorno ho finito le scuse ed era una domenica sera e lui ha detto ora non hai più scuse so che non hai appuntamenti quindi vieni con me quindi ho accettato Ab stava per iniziare quando ho varcato la porta e così ho preso la prima sedia per non disturbare i presenti Ab era seduto su una sedia enorme grande e venne subito mi chiamò per nome disse Neville sei in ritardo sei in ritardo di sei mesi quindi sono rimasto sballerdito l'uomo conosceva il mio nome e poteva dirmi che ero in ritardo di sei mesi ed era circa sei mesi prima che David il suo nome era David mi aveva chiesto di andare a sentire un uomo chiamato Abdullah e da quel giorno non ho mai saltato un incontro sono stato con Ab tutti i giorni non potevo spendere soldi dovevo pagare l'affitto ma lui non ha mai preso un dollaro da me buonanotte e io mi fermo qui vi aspetto domani con una nuova lezione ciao a tutti grazie ciao